Così anche quest'anno, come ogni anno, si addensano gli avvoltoi sul 25 aprile. Quest'anno riescono addirittura a fare di peggio rispetto al passato. Impugnano i morti del presente per riscrivere la storia sui morti passati. E così tutti gli anni, tutte le volte. E i protagonisti, se ci pensate, sono sempre gli stessi. Quelli che verrebbero convincerci che la nascita della nostra democrazia e della nostra Costituzione sia qualcosa di vecchio, passato di moda, qualcosa di secondario rispetto alle urgenze del presente. E ogni anno, tutti gli anni, il presente ci presenta delle urgenze da usare come clava. E così anche questo 25 aprile ci siamo dovuti sorbire la nipote di Mussolini che viene a darci lezioni di libertà. Fingendo di dimenticare che proprio grazie alla liberazione da suo nonno lei ha lo spazio e il modo per poter esprimere le sue opinioni e ha la possibilità, tra l'altro, di ricoprire un ruolo politico. Ai tempi di suo nonno la mancanza di libertà che lei lamenta così sovente era qualcosa che sanguinava addosso. Non si andava a parlarne da Barbara D'Urso durante il pomeriggio. E poi, anche questo 25 aprile, ci dobbiamo sorbire, ovviamente, l'ex ministro dell'Inferno, Matteo Salvini, che ci invita, udite udite, a lavorare piuttosto che a cantare bella ciao. Bella forza, eh? Salvini in quarantena. Un uomo che non ha mai lavorato in vita sua, e guardate, lo sancisce una sentenza di un tribunale e che si finge improvvisamente operoso pur disputare sul 25 aprile. È diventato un guitto, un guitto che solletica gli sfintieri dei fascisti per meritarsi qualche minuto di visibilità e che continua ad affondare nelle sue contraddizioni. Del resto, questo suo agire come un disco rotto, ormai, ha trasformato i suoi sondaggi in una picchiata continua e che continua a ribalzare, chissà se qualcuno dei suoi che lo sta facendo notare. Eppure quest'anno resistere assume un significato ancora più profondo. Resistere significa avere la schiena dritta per riuscire a mettere insieme responsabilità e libertà. Per ringraziare la Costituzione che nelle emergenze disegna comunque la strada su cui muoversi e resistere significa sentire la responsabilità di essere una comunità. È una festa della liberazione che va vissuta con la mano ferma senza farsi svirgolare dalle condizioni del presente. I padri costituenti ci avevano raccomandato di essere vigili e ora ci tocca essere vigili per salvarci. Diceva Calamandrei La liberazione fu veramente come la crisi acuta di un morbo che finalmente si spezzava dentro il nostro petto, come lo strappo risoluto con cui il popolo italiano riuscì con le sue stesse mani a svegliere dal suo cuore un groviglio. Io lo trovo modernissimo questo 25 aprile. Non volete festeggiarlo? Belli. Ciao. Buon venerdì. Buon venerdì. Grazie.